Nelle ultime due pagine del capitolo si fa accenno alla nascita di un nuovo impero in Europa, il Sacro Romano Impero Germanico. Vediamo da dove si parte per arrivare al Sacro Romano Impero Germanico. Dopo la deposizione di Carlo il Grosso nell'887, in Germania si erano formati cinque grandi ducati, quello di Sassonia, di Franconia, di Baviera, di Svevia e di Lorena. A questi cinque grandi ducati spettava il compito di eleggere il sovrano, di eleggere l'imperatore. Nel 1919 fu eletto re di Germania Enrico I, duca di Sassonia, che organizzò militarmente i propri territori dando inizio alla nuova dinastia imperiale, la dinastia di Sassonia. Questa premessa era necessaria per capire da dove arrivava il nuovo imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, e cioè Ottone I, di cui adesso andremo a parlare. Alla morte di Enrico nel 936 salì al trono suo figlio, Ottone I, detto il Grande. Perché venne chiamato il Grande? Perché nel 955 ottenne la vittoria definitiva sugli Ungari a Lekfeld, e li costrinse a ritirarsi nei loro territori in Pannonia. Ottone I, una volta assunto il potere, per contrastare le rivolte dei piccoli feudatari, si propose di rafforzare il potere del re. Come fece? Si servì di vescovi e abbati come suoi feudatari. Infatti in questo periodo nasce la figura del vescovo conte. Perché si serviva dei vescovi e degli abbati? Perché i vescovi e gli abbati erano persone di chiesa che non potevano sposarsi, quindi non avevano eredi. E quindi in questo caso il feudo sarebbe ritornato nelle mani del re. Quindi una volta rafforzata la propria posizione in Germania, nel 951 Ottone I scese in Italia per rivendicare i territori dell'Italia settentrionale. sconfisse e depose il re Berengario II e nel 962 fu incoronato imperatore da Papa Giovanni XII del nuovo Sacro Romano Impero. Perché era nuovo questo Sacro Romano Impero? Aveva le stesse caratteristiche di quello di Carlo Magno, ma Ottone I aggiunse un'altra parolina, germanico. Quindi questo nuovo impero si chiamava Sacro Romano Impero Germanico. A sottolineare l'identità del nuovo impero. Dal punto di vista territoriale questo nuovo impero non aveva nulla a che fare con quello di Carlo Magno. Era molto più piccolo, vedete, comprendeva tutta la Germania, più qualche territorio e confini con la Francia, e l'Italia settentrionale. Diciamo la parte centrale del vecchio Sacro Romano Impero di Carlo Magno. Una volta diventato imperatore, Ottone I venne subito in contrasto con il Papa, con la Chiesa. Perché? Perché Ottone I emanò nel 962 un editto chiamato Privilegium Ottonis, cioè Privilegio di Ottone, secondo il quale lui aveva la facoltà di confermare o contrastare le elezioni dei Vescovi. Ricordiamo che lui usava i Vescovi come dei conti, cioè gli dava i loro feudi, quindi aveva necessità che questi Vescovi gli fossero fedeli. Quindi sceglieva i Vescovi tra le persone a lui fedeli. Al Papa non stava per niente bene che lui mettesse il becco negli affari di Chiesa. Per cui con Ottone I si cominciò a delineare una Chiesa, una crisi tra il potere imperiale e il potere della Chiesa. Infatti Ottone I, utilizzando le figure dei Vescovi Conti come propri feudatari, rafforzava la propria posizione nei confronti dei signori feudali, in quanto i feudi non riusciva ad aggirare la legge dell'ereditarietà dei feudi, non avendo i Vescovi dei figli. Però questa fu un'arma a doppio taglio, perché nella creazione dei Vescovi Conti, questa creazione dei Vescovi Conti ebbe delle conseguenze nei confronti della Chiesa. La Chiesa mal digeriva il fatto che l'imperatore ficcazza il naso negli affari della Chiesa, cioè nelle elezioni dei Vescovi. Addirittura nel privilegio Motonis era contemplato anche il fatto che per eleggere il Papa ci voleva anche l'approvazione dell'imperatore. Quindi anche per eleggere la massima carica della Chiesa c'era bisogno del benestare dell'imperatore. In più, sempre nel privilegio Motonis, si diceva che nessuno poteva essere eletto Papa senza aver prima giurato fedeltà all'imperatore. E che il Papa, una volta diventato Papa, poteva consacrare solamente gli imperatori di origine germanica. Questo è l'inizio di una lotta tra l'impero, il Sacro Romano Impero Germanico e la Chiesa che si concluderà solamente due secoli dopo, nel 1122. Questo scontro fra la Chiesa e l'impero fu chiamato lotta per le investiture, cioè lotta per la consacrazione dei Vescovi. Quando Ottone I morì nel 973, gli successero i suoi figli che però erano più deboli e avevano meno autorità del padre. Con loro la situazione dell'impero peggiorò perché i feudatari cominciarono di nuovo a rebellarsi all'autorità imperiale e inoltre si inaspirono i conflitti fra il papato e l'impero. Con questo si conclude il nuovo capitolo. Arrivederci.